Propositi per l'anno nuovo, propositi per quest'anno che è già l'anno presente, già quasi l'anno passato, insomma, siamo nel 2023 inoltrato, buon anno da Roberto, buon anno! Quest'anno è l'anno in cui devi diventare la migliore versione di te stesso o di te stessa. Devi correre su di te, devi fare la gara su di te e non sugli altri, non devi guardare a quello che c'è fuori, ma a quello che c'è dentro. I tuoi più grandi nemici sono all'interno e non all'esterno, ricordatelo sempre bene. Quindi, obiettivo, proposito, buon proposito per l'anno 2023, diventare la migliore versione di se stessi. E come fare? Ovviamente te lo spiego io! Ue ue, ciao a tutti cari amici e cari amiche, ben ritrovati da Roberto Buonanno, sono qui per parlarti di imprenditoria, crescita personale e di tutto quello che ti serve per diventare una persona di successo. Chi è una persona di successo è qualcuno che vive la propria vita alle sue condizioni e non vive la vita degli altri. Sono tante belle definizioni che sto leggendo ultimamente perché sto studiando molto per portare contenuti sempre migliori su questo canale. E una delle definizioni più belle che ho trovato è stata proprio quella, cioè vivere la vita alle tue condizioni. Ora, come fai a vivere la vita alle tue condizioni se guardi sempre fuori, se guardi sempre gli altri? E quello è meglio di me, e quella è più carina, e quello guadagna più soldi, e quell'altro ha la macchina più bella? Ecco, se tu continua a confrontarti con altre persone è difficile capire cosa hai veramente dentro. Lo so, alcuni diranno, immaginiamo che fai sport e alcuni diranno ma se voglio correre la maratona e vincere la maratona di New York e fare il record del mondo, devo correre contro qualcuno. No, è sempre contro di te la competizione, perché quando poi sei in strada ad allenarti ed è il 5 di gennaio e nevica, fa un freddo boia e non vuoi uscire neanche da sotto le coperte, con chi stai correndo? Contro l'etiope fortissimo o contro di te? Ecco, è sempre contro di te la prima più grande competizione. A tutti i livelli, lo dicono tutti, lo dicono sia i coach, lo dicono i preti, i pastori, lo dice anche la Bibbia, è dentro di te che ci sono le lotte, i diavoli che tu ci credi oppure no, il diavolo, è tutto dentro di te, è tutto dentro di te che deve emergere. L'altro giorno un amico salvatore mi ha detto, Roberto ma chi è meglio, Frank Merenda o Big Luca? Io ho detto, guarda, domanda molto imbarazzante, nel senso ovviamente io parteggio per Big Luca perché l'ho conosciuto, ho studiato con lui, però ho detto, guarda, sono entrambi i bravi, in realtà la differenza non la fa Merenda, Big Luca, Pinco, Pallo, la differenza la fa l'allievo. Un mio grande maestro di tennis ha sempre detto, quando giochi a tennis non conta la racchetta, conta il manico, il manico, cioè cosa vuol dire? Chi impugna la racchetta, ok? E quindi chi fa veramente la differenza? È veramente utile stare lì a farsi tante menate su chi scegliere come maestro? Beh, fino a un certo punto, perché se poi tu le istruzioni non le segui, allora sei punto a capo, tanto vale avere il peggior maestro di tutti, ok? Quindi la mia risposta è stata, guarda, premesso che si scelga un buon coach, una buona formazione, se tu non segui le indicazioni che ti sono date, è come non averla fatta. Io ho conosciuto tante persone che hanno definito truffatori, dei coach, dei maestri che a me hanno insegnato cose che mi hanno portato a dei successi e delle incredibili ricchezze. E a volte con alcuni di questi sono diventato amico e mi ricordo parlando una volta con il mio grande, primissimo coach, Coan Bogiatto, sempre si ero dato, e beh ancora vivo, scusate. E mi ricordo proprio questo giorno, dicevo a Coan Bogiatto questa cosa qua. Io, caro Coan, non riesco a capacitarmi di come sia possibile che qualcuno venga da te a dirti che lo hai truffato, che quello che gli hai detto non funziona, che gli hai venduto cose che non hanno funzionato. Non riesco a capirlo, perché noi ci siamo incontrati un giorno, abbiamo fatto la nostra sessione di coaching, ha preso un A4, mi ha scritto tutte le cose da fare da lì a tre anni, mi ricordo, lo conservo ancora come una preziosa reliquia, e io ho fatto tutto e sono arrivato esattamente a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati assieme in quel giorno che era, se non mi sbaglio, un giorno del 2018, non ricordo esattamente giorno e mese. Ho ancora lì il foglio, adesso non ce l'ho da queste parti. Tutto quello che abbiamo scritto io l'ho fatto, quindi cosa conta di più? Avere un buon maestro è essere un buon allievo? Ora, secondo te rispondi tu, cosa conta di più? Secondo me conta di più essere un buon allievo, perché puoi essere esposto alla più grande informazione del mondo e non mettere in atto. Per esempio, io faccio anche un altro esempio classico, sono 3.000 anni fa che, secondo le religioni ebraiche, cristiane, insomma giudeo-cristiane in generale, Dio ha comunicato i dieci comandamenti a Mosè sul monte Sinai, ok? Perfetto. Questi dieci comandamenti dicono delle cose molto importanti, tra cui per esempio non assassinare, non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, non desiderare la moglie da altri, le cose da altri, cioè, insomma, non rubare, non uccidere, stai bene, fai il bravo, vivi bene in società. Ma, perfetto, sono state consegnate e sulla base della Bibbia e dei nuovi e vecchi testamenti sono state costruite praticamente tutte le società e le culture dell'Occidente. Benissimo. E quindi non c'è bisogno della polizia. A cosa serve? Giusto? Perché c'è bisogno della polizia? Perché ci sono le carceri piene? Se addirittura la massima autorità concepibile nel mondo occidentale, che Dio ha consegnato dei comandamenti che dicono chiaramente Thou shalt not murder, tu non dovrai uccidere, che tra l'altro è assassinare, non è uccidere. Perché, secondo alcune interpretazioni, uccidere è corretto quando si tratta di difendersi, quando si tratta dello Stato che applica la pena di morte, cosa che io non approvo, però è così. L'interpretazione di alcuni paesi basati sull'impronta giudio-cristiana dicono non si deve uccidere, non si deve assassinare. E tra l'altro, pensate, una cosa che non tutti sanno, molte teorie sul nazismo ritengono che l'obiettivo principale di Hitler con lo sterminio degli ebrei era quello di far sparire completamente la radice giudaica, insomma la radice ebrea, ovvero il collegamento culturale alla Bibbia. Perché? Perché lui annetteva altri stati facendo degli omicidi, perché aggredire una nazione, uno Stato sovrano, per acquisirne i territori e le ricchezze comporta assassinare delle persone che stavano pacificamente lì a farsi i fatti propri e non solo semplicemente, come sta succedendo adesso con quell'altro simpatico macellaio russo, non solo semplicemente altri soldati. Nella guerra muoiono gli innocenti e tante persone perdono tutto. E quindi Hitler avrebbe fatto tutto quello che ha fatto, concentrandosi quasi più in certi momenti storici sullo sterminio degli ebrei che sull'andamento delle guerre, delle sue varie guerre che combatteva su più fronti, per sradicare completamente la Bibbia in modo che nessuno avesse più a ridire sul fatto che lui in realtà tradiva i dieci comandamenti. Che ci crediate? Oppure no? Ci sono anche queste teorie. Quindi l'allievo conta più del maestro, perché oggi io vi posso garantire tranquillamente che prendendo anche in mano un singolo solo libro e applicando tutto alla perfezione potreste arrivare a livelli veramente esagerati rispetto a quelli ai quali siete adesso. Faccio un esempio, adesso io, un esempio pratico di cosa vuol dire applicare oppure no. Io adesso recentemente sto iniziando a studiare sempre di più un questo fantastico Kindle Scribe. Poi dico studiare e faccio vedere un romanzo che è Anna Karenina. Però faccio un esempio. Mentre studiavo un altro argomento, l'autore ha citato Anna Karenina di Lev Tolstoi. Quindi l'ho preso e l'ho immediatamente scaricato. Tra l'altro è gratuitamente disponibile sul fantastico sito liberliber.it al quale vale la pena anche fare una piccola donazione. Ora, in questo libro per esempio c'è un enorme romanzo, ci vogliono 20 ore per leggere tutto. Molto interessante, è tuttora molto moderno. E ci sono tante citazioni. Se queste citazioni tu le leggi e le lasci lì e non le memorizzi, non le trascrivi, non te le segni, li rimarranno per sempre. Per esempio c'è una molto bella proprio all'inizio che dice, se non mi sbaglio, tutte le famiglie sono un po' infelici ciascuno a modo loro. Perfetto, proprio l'incipit, l'inizio di Anna Karenina. Ok, se questa frase qua non la prendi, non la fai tua, non la trascrivi, non esprimi un giudizio critico, non la paragoni alla tua realtà, avrai letto un romanzo senza trarre nessun insegnamento. Avrai letto un libro, un testo senza trarre nessun insegnamento. Quindi cosa voglio dire con questo? Che l'allievo deve affrontare ciascuna attività di formazione della propria esistenza, che sia un podcast, una trasmissione di tv, ma perfino il grande fratello, qualsiasi cosa, l'isola dei famosi, X-Factor, ogni volta che si espone a un argomento, a un materiale di studio, ma anche a un materiale di intrattenimento, come può essere un romanzo per quanto di un grande autore, deve far suo qualcosa che lo aiuta a migliorarsi. Come per esempio una citazione, un particolare elemento, una frase, un collegamento sociologico, un collegamento ad altri suoi studi. E deve creare una rete di conoscenza che lo aiuterà poi a diventare una persona sempre più esperta e pronta ad affrontare altri argomenti nella vita. In questo caso, ho fatto la citazione di un libro che è un romanzo, pensate anche ad un romanzo, puoi trarre un argomento che poi può diventare un elemento della tua formazione personale. Ma se tu non affronti il mondo da bravo allievo, non diventerai mai la migliore versione di te stesso. Di conseguenza, cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi, se decidi di diventare un bravo, un ottimo, un eccezionale allievo, allora vedrai che un grande maestro ti sceglierà come allievo. Questo è quello che posso dire come riassunto di tutto questo video. Se tu deciderai di diventare un grande allievo, un grande maestro ti prenderà come allievo. Ed è sempre così. È il maestro che sceglie l'allievo. Quindi è inutile che stai lì a confrontare i formatori online, i coach, i guru. Se tu un giorno deciderai dentro di te di seguire la via della formazione, quella vera, quella critica, con cui tu leggi, analizzi, scrivi, prendi appunti, incroci dati, metti tutto in dubbio, studi veramente, poi applichi, allora sì, che troverai il maestro, che fa per te. Analisi critica, fondamentale. L'analisi critica è qualcosa di fondamentale, perché non puoi prendere tutto per orocolato. Per esempio, nei miei stessi corsi, che tra l'altro penso siano ancora in vendita, ma fate voi, io dico sempre di studiare col sistema della immersione. Ovvero tu ascolti, riascolti, riascolti tante volte il corso, anche in maniera accelerata, ascoltandone solo l'audio, anche senza guardare la parte video, ok? E piano piano il tuo cervello si riempie di queste nozioni. Qual è il problema? Innanzitutto il problema di questa cosa, vedi che la insegno anch'io, però la critico, è che a un certo punto, se l'informazione non è perfettamente corretta, che facciamo? Se la persona, in tre ore di lezione, dice quattro cose sbagliate, cosa fai? Memorizzi le quattro cose sbagliate? E allora no, devi sempre avere la coscienza critica attiva. E quindi in certi casi, per certe materie, per certe situazioni, è meglio tornare allo studio, per cui sei lì, con carta e penna, oppure con Kindle, scribe e penna, che è una cosa esagerata, se non lo conoscete, non vi farò mai il video, ma sappate che è fighissimo, e prendi, appunti, scrivi, incroci, indaghi, vai su Google, vai su Wikipedia, prendi i tuoi libri, apri la Bibbia, confronti, allarghi le tue opinioni e decidi cosa è giusto e sbagliato per te. Perché a volte ci sono delle verità assolute, tipo 2 più 2 fa quasi sempre 4, a volte no, quando l'argomento è di tipo umanistico, la psicologia, la religione, l'antropologia, e c'è gente che dice, per esempio, con grande certezza, che è un dogma che l'uomo discende dalla scimmia, perfetto, e c'è gente che dice che è un dogma che l'uomo è stato creato così, come è fatto da un'entità come Dio, per esempio, ok? Ora, capite che se c'è più o meno metà del mondo che crede nella scienza come religione, e metà del mondo che crede nella religione come tale, abbiamo un problema, abbiamo un problema critico, e quindi ogni volta che l'informazione è di questo tipo, cioè di tipo legato alla coscienza, all'umanità, alla società, ad argomenti che portano divisione negli esseri umani, devi metterci la testa tu, ok? Ultimo elemento, studiare non serve a niente se non metti in pratica. Puoi accumulare libri su libri, diventare la persona più formata dal punto di vista teorico, ma se non metti in pratica non servirà a un bel niente. Mi ricordo una metafora calcistica, c'era questo dirigente della squadra dell'Inter che diceva, mi sembra di Bergkamp, questo giocatore olandese dei tempi, ah sì sì, Bergkamp è il più forte giocatore al mondo in allenamento. Perché lui diceva, caspita, lo vedi in allenamento, fa delle cose incredibili, poi in partita fa, non dico che fa pena, ma non rende come in allenamento. E allora cosa serve essere il più forte giocatore al mondo in allenamento? È meglio essere un buon giocatore, costante e che dà veramente risultati in partita. Meglio essere un gattuso, un centro mediano metodista che corre, 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 sbatte, sbatte, sbatte e alla fine comunque vinci i campionati e vinci le coppe del mondo, che essere un Bergkamp che in allenamento è un fenomeno e poi in realtà non ha vinto niente. Quindi anche tu, chi vuole essere? Un gattuso vincente o un teorico, tra virgolette, fallito o non vincente? La scelta è tua.